Parte da Castelvetrano l'attività itinerante della Commissione regionale antimafia presieduta dal deputato Antonello Cracolici, una scelta quella di iniziare da Castelvetrano che ha un grande valore, anche simbolico, in una città che cerca il riscatto dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. La Commissione regionale antimafia sarà a Castelvetrano giovedì prossimo 2 febbraio. Alle 10.30 si riunirà nell'aula consigliare del Palazzo Municipale insieme con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto di Trapani, Filippina Cucuzza. A seguire, alle ore 12, la Commissione antimafia incontrerà i sindaci della provincia. Avviamo un lavoro itinerante per la Sicilia fatto di incontri, conoscenze e contatto diretto con i territori, dice il Presidente della Commissione, Antonello Cracolici. Partiamo da Castelvetrano a pochi giorni dalla cattura del boss Matteo Messina Denaro per ribadire la vicinanza delle istituzioni e per comprendere cosa è possibile fare per sostenere il contrasto alla mafia nei luoghi dove questa ha radici più profonde, non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche sociale e culturale, ha concluso Cracolici.